A scuola di diritti umani dentro al carcere di Arezzo, non che la materia non fosse conosciuta, ma per volontà della direzione dell'Istituto Aretino, gli agenti di polizia penitenziaria, assieme al personale delle altre istituzioni e ai volontari che a vario titolo lavorano all'interno del carcere, affronteranno questa delicata materia in un corso di aggiornamento che si suddivide in quattro moduli. In tutto 60 gli agenti che potranno così rinforzare a livello normativo e non solo il concetto di rieducazione che parte dalla volontà del detenuto. La finalità della pena è la rieducazione e il reinserimento sociale, ma questo non potrebbe mai avvenire se non si creano le condizioni di dignità della persona detenuta. Lo sforzo, l'impegno dell'amministrazione penitenziaria è esattamente questo. Dal mio punto di vista non dobbiamo aspettare le pronunce di condanna dell'acedo. È nel nostro DNA il valore della persona, quindi il carcere deve aiutare a far ritrovare anche nelle persone detenute questa loro dignità. C'è un impegno dello Stato, c'è un impegno dell'amministrazione affinché si riprenda un percorso sociale di aiuto, dire inserimento. E questi valori noi ce li ricordiamo a noi stessi, i valori dell'uomo, i valori della dignità, il valore del rispetto poi dei diritti delle persone in genere. Nel carcere questo rispetto deve essere assolutamente un imperativo categorico per noi e noi ce lo ricordiamo in questo corso.